Ciao ragazze e ciao ragazzi, non so come sarà questo video, come un po' di video recensioni fa la sto registrando con una fotocamera, quindi non ho modo di vedere se mi sta inquadrando, se sono storta l'audio dovrebbe essere buono e anche come risoluzione, però non potendo vedere l'anteprima mi sento un attimo spersa, allora ho da farvi tante recensioni e dividerò questa sezione di video recensioni in tre video nella prima un po' mista, la seconda di trucco, la terza di radazione, quindi vedrete tre video uno dietro l'altro tutto vestito e sistemato allo stesso modo, almeno spero tre perché la luce già sta andando via iniziamo col primo così andiamo vit vit, prendo il mio quadernino delle recensioni e iniziamo con un prodotto della Yves Rocher, è uno smalto piccolo, quelli da 3 ml dovrebbero essere, sì, questo si chiama 21 Orange Sanguine quindi l'arancione è quello delle arance sanguinare, come si chiamano? Quelle arance rosse non mi ricordo quelle siciliane forse, datemela per buona allora, questo smalto ha come pennellino, quelli ovviamente non di nuova generazione ma quelli vecchi praticamente piccino, tondeggiante, il focus dovrebbe essere automatico su questa comunque più di questo non mi vorrei avvicinare, comunque piccolino, prende abbastanza bene il prodotto non è di quelli quadrati ma è tondo, è un bel colore arancio, quasi un rosso arancio come consistenza è molto gelatinosa e per avere questo bel colore sulle unghie si devono dare almeno 3 passate, con 2 si raggiunge anche una bella pienezza di colore ma per i miei gusti personali preferisco le 3 passate, fortunatamente ha un'asciugatura nella media quindi non ci si mette troppo tempo a fare queste 3 passate e ha una buona assendibilità, anche se il pennellino e di quelli là di vecchia generazione prende bene il prodotto, lo distribuisce bene, non fa, non dà troppi problemi nella stesura, altra cosa come durata, io gli do più o meno mi è durato un 4 giorni, verso il quarto giorno iniziava avere le punte scolorite però con un top coat, un buon top coat vi fa anche 6-7 giorni, secondo prodotto di cui voglio parlare non è proprio un prodotto ma sono gli applicatori per ombretto della Essence, quelli della linea Zeva, non lo so, erano quelli tutti colorati, ce ne erano, quante ne erano, dentro 5? Sì, di questo verde Tiffany, come si chiama ora? O blu acqua marina e rosa che ovviamente gli altri 4 lo sono già in funzione da un po', le ho anche lavati e rilavati, quindi l'applicatore non è lunghissimo, anzi sono cortissimi, questa è la lunghezza dell'applicatore, molto corti, però è l'applicatore in quelli in silicone, quindi prendono bene il pigmento sia in polvere libera che ombretto compatto e lo si può pressare bene sulla palpebra, sapete che io uso sempre applicatori di questo genere per l'applicazione dell'ombretto sulla palpebra, non mi piacciono i pennellini diciamo a C per permettere l'ombretto, non sono una truccatrice, quindi per il mio scopo mi stanno più che bene, avendo questa punta qui, cioè l'applicatore molto a punta, riesco anche ad applicare l'ombretto nella palpebra inferiore oppure se proprio sono in velocità, sono in giro, non ho altro, posso anche disegnare la mia via esterna e poi con il colore più scuro e sfumarla con il dito e riesco a fare un trucco così alla bene e meglio, ma comunque che mi dà la possibilità di uscire con un occhio truccato discretamente. Altro prodotto di cui voglio parlare è questo latte bagno doccia della Elizabeth Girl, questo è stato un regalo di Natale dell'anno scorso, è un gel per bagno e doccia, ha un profumo divino, sono 250 ml, sembra latte alle mandorle, non lo so, è dolcissimo, come consistenza è molto morbido, è anche un prodotto molto idratante, in confezione regalo c'era anche il dosatore ma non lo riesco, no, non riuscivo ad aprirlo, probabilmente quando ho provato ero in bagno quindi da oggi ci metterò questo e sarà molto più comodo perché effettivamente aprire, versare, richiudere sotto la doccia diventava un processo lungo e macchinoso. Ora che mi si è aperto, tolgo il tappo e ci inserisco il dosatore e andrò più comodo in doccia, scusate, non riuscivo proprio in doccia. Altro prodotto di cui voglio parlare è un prodotto estivo, questa fa parte della linea After Sun della G-Cube, è l'olio protettivo per capelli, quello che si mette per l'esposizione solare. Ovviamente quest'estate è stato un piacere utilizzarlo, mi ha nutrito perfettamente i capelli, lo spruzzavo più volte durante l'esposizione solare. Da quando ovviamente è finita l'estate, ha un buon profumo, pecca, la dico già ora, non ha il tappino per coprire ma questo cosino per bloccare lo spruzzino. Però l'erogatore si è sporcato di sabbia perché sono andata a mare a pesto, ma tante volte, la sabbia è molto fine, quindi mi si è sporcava tantissimo, ogni volta dovevo cercare di ripulirlo. Comunque, quest'estate è stato straordinario, scusate il doppio gioco di parole, volevo leggervi qualcosa, sì, è con Monoil e Neroli, o avevo anche i prodotti shampoo e maschera, vi lascio le recensioni giù in infobox perché non si possono più mettere le note, quindi le lascio giù in informazione. Allora, vediamo cosa c'è scritto in italiano, olio solare specifico per la protezione dei capelli esposti al sole, la chioma si mantiene forte e brillante grazie al Monoil e ai filtri UV. Vabbè, spruzzare, vaporizzare a piacimento. Come stavo dicendo, quest'estate mi ha aiutato molto, anche se ho già tagliato i capelli, prima di tagliarli non erano troppo secchi, anzi, quest'estate sono stati ben nutriti, li sentivo ben nutriti, sia grazie a questo che ai due prodotti shampoo e maschera che ho utilizzato in combo. Quest'inverno lo sto continuando a utilizzare come olio pre-shampoo, ne spruzzo una piccola quantità solo sulle punte, lascio agire una mezz'oretta, un quarto d'ora, quanto riesco, diciamo, sui capelli leggermente inumiditi, poi vado a fare lo shampoo, i miei capelli sono molto più corposi e morbidi, visibilmente nutriti rispetto a quando non ho il tempo di utilizzarlo. Quindi, se come me vi è rimasto l'olio solare protettivo dall'estate, provatene un uso di questo genere che funziona. Considerando pure che è un prodotto che ha scadenza dopo 12 mesi dall'apertura, io sono arrivata più o meno qui, quest'estate ero arrivata qua, ne ho usato anche tanto, utilizzarlo anche durante l'inverno, utilizzare gli oli solari anche durante l'inverno, sicuramente non fa male al capello e se sono oli protettivi di un certo livello, li nutre e aiuta a tenere il capello molto più nutrito. Ultimo prodotto per questo video è l'acqua termale di Vichy, acqua termale lenitiva e rinfrescante, rigenerante, scusate. Io le acque termali le uso principalmente a posto del tonico, dopo la pulizia del viso spruzzo un po' di acqua termale e all'occorrenza, specialmente la sera, non sempre metto la crema idratante, mi basta l'acqua termale. Scusate ma mi era scesa la voce. Quest'acqua termale non mi ha fatto impazzire, nel senso è fresca, quando mi sono esposta al sole non mi ha lasciato la pelle molto, sì è molto lenitiva come prodotto. L'unica cosa che non mi piace è quando la spruzzo è come se rimanesse un po' di prodotto che non si assorbe del tutto, nella pelle non l'assorbe del tutto e rimane una piccola patina, la sento quando muovo i muscoli facciali che si sgretola. Non è fastidiosa, però quando la uso normalmente come tonico, ma quando la vado ad usare come fissatore trucco, la sento sul viso come sopra il fondotinta che non mi dà sicurezza, non è stata un'acqua termale usata come prodotto di fissaggio, si può dire sì, non è stata rassicurante. Come tonico, rinfrescante e tutti gli usi delle acque termali mi è piaciuto, anche come prodotto per bagnare gli ombretti, quelli che si possono bagnare, non mi è dispiaciuto. L'unica pecca è questa che la si sente addosso, volevo dire anche che senza parabeni, alla fine come ingredienti c'è solo l'acqua, come tutte le acque termali. Ok, questi prodotti per questo video e credo che oggi non registrano un altro video perché ormai ho perso la luce e spero di riuscire nei prossimi giorni. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi e ciao ragazzi in gamba!